C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maiko. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maiko ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maiko, scegli di sentire. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi, come oltre pressorio e cardiaco ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio, attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, come ad esempio... La nostra esperienza è professionalità al servizio del cittadino. Grazie a tutti. Nuovo appuntamento con Vestina News. Questa settimana parleremo e torniamo a parlare del nostro comio San Massimo di Penne perché nei giorni scorsi, una settimana fa, c'è stata la visita presso il municipio del comune Vestino di parte dell'assessorato regionale, c'era il presidente dell'Aggiunta Marco Marsilio, poi c'era l'assessore alla sanità Nicoletta Averi, c'era il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma oltre a loro c'erano anche i componenti che comunque nei mesi scorsi, nei mesi passati, erano stati a Penne e nell'area Vestina per la loro campagna elettorale. Qui si è dato molto risalto all'ospedale di Penne e non solo perché si parlava anche di ex zone rosse e dei fondi che dovrebbero arrivare proprio dal governo regionale. Intanto noi presentiamo gli ospiti di oggi nel nostro studio che sono i due componenti dell'associazione e scusate, salviamo l'ospedale di Penne che sono il presidente Nicola Spoltore, grazie di aver accettato il nostro invito, e del tesoriere Antonio Marrone, tecnico di radiologia dell'ospedale di Penne. Allora, partiamo subito con il presidente. Presidente, ecco c'è stato questo incontro, l'abbiamo detto in apertura, un incontro a cui siete stati invitati negli ultimi giorni proprio a partecipare dopo il vostro grande impegno negli anni per questa battaglia per mantenere l'ospedale San Massimo a Penne. Ecco, che tipo di incontro è stato e che cosa avete capito da questo? C'eravate anche voi, come sempre presenti, quando si tratta di fare servizi di questo tipo e di rendere dotta la popolazione. e quindi avrete sentito i ringraziamenti, i saluti, dopo i selfie per la presenza di questi personaggi. Avrete sentito che la prima cosa che ho detto è che io non avrei ringraziato nessuno perché non c'era nulla e nessuno da ringraziare. E ho concluso dicendo che l'associazione da quel momento cambiava atteggiamento verso questa governatura. Perché? Io vorrei un attimino sezionare uno degli interventi della giornata del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, il dottor Damario. Allora, tra le varie cose, ha detto che sono previsti per il San Massimo circa 12 milioni per la riqualificazione dell'immobile. Io questo lo vorrei risottolineare perché qualcuno potrebbe capire male. È un immobile che deve essere riqualificato per forza di cose. Apro una parentesi. L'altro giorno che ha fatto tutta quella pioggia, dal tetto della chirurgia rondava acqua da tutte le parti. Quindi mi sembra ovvio che ci sia questa necessità. Anzi, quando si faranno i lavori sarà sempre troppo tardi. Sono i 12 milioni. Sono i soliti 12 milioni, non lo so. E quindi devono fare un miglioramento sismico e l'adeguamento degli impianti antigenzi. Sono atti dovuti. Sarà sempre troppo tardi quando li faranno. E va bene, andiamo avanti. La convenzione è già pronta, dice Damario. In settimana il Presidente Marsiglio la firmerà. Scusa, se portava... Cioè, Berlusconi firmò un contratto con i cittadini italiani in diretta a TV. Avrebbero potuto fare lo stesso a questo punto. Cioè, portare la convenzione è lì e firmarcelo davanti a noi. Se è pronta la convenzione, Marsiglio è lì, basta la firma. Infatti si è parlato che comunque la convenzione verrebbe firmata a giorni o comunque a questa settimana. E ricorda che si tratta della convenzione, perché poi, lui aggiungerà nell'intervista, e poi bisognerà presentare il progetto. Però abbiamo visto anche un video di un progetto, quindi forse un progetto già c'è. Se si riferisce al progetto di Paolucci può darsi, insomma. Siccome parlavano di un loro progetto, io dubito che sia lo stesso. Quindi non lo so, questo ce lo faranno sapere. D'altra parte ha detto pure che a settembre verranno appaltati i lavori. Quindi la cosa dovrebbe essere imminente. Ci ha riparlato di questi 12 milioni che dici che non sono quelli dell'ex articolo 20, ma ai sensi dell'articolo 1,1072, legge 205 del 2017. E sono già disponibili questi soldi. Io non vorrei che la vecchia barzelletta riproposta come nuova, insomma. Perché non ci farebbe più ridere, non farebbe ridere nessuno. Ma andiamo avanti con l'intervento del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Con questo intervento l'ospedale di Penne cambierà veste e diventerà un ospedale di area vasta. Questo è un neologismo. L'ospedale di area vasta è la prima volta che lo sede, io gliel'ho detto in quella sede. Che cosa si intende per l'ospedale di area vasta? Ma questo dovremmo chiederlo a lui perché non l'ha spiegato, insomma. C'è sempre l'ospedale di area disagiata, che però raggruppa una vasta area. Forse per quello, forse indentrata. Ma questo lo sapevamo, l'area che raggruppa lo sappiamo, 50-60 mila abitanti con numerosi paesi. Ma questo che significa? L'area vasta non esiste, non c'è mai stato. Esiste il decreto Lorenzini e io non capisco perché anche il governo centrale non abbia cancellato questa iattura che ha provocato danni in tutta Italia, danni alla rete ospedaliera e alla sanità di tutta Italia. Va cancellato immediatamente, va azzerato completamente. Ma al di là di questo resta ancora in vigore. Per cui esistono gli ospedali che non sono certamente quelli di area disagiata. Sono l'ospedale di base, il sede di proprio soccorso, il DA1 e il DA2. Quindi non si può pensare di venire a fare la supercazzola del famoso film Amici miei. Lo dico perché non è una parolaccia. Il Conte Mascetti la faceva spesso per sdrammatizzare le situazioni. Qui ci vengono a raccontare le favolette facendole passare per verità. Il discorso è questo, che questi personaggi hanno fatto delle promesse in campagna elettorale. Promesse che non vengono mantenute. Ritorniamo al vecchio genere, al vecchio modo di fare della politica di sempre. Ecco Nicola, proprio per questo, io mi ricordo perché eravamo presenti il 25 luglio 2019 a Pescara, quindi si tratta quasi di un anno fa, era uno dei primi incontri con l'assessore Everie. Proprio lì in un'intervista propose, dopo il tavolo di monitoraggio, proprio l'ospedale con pronto soccorso H24. Ecco, l'ospedale con pronto soccorso H24 c'è già. No, non c'è. Non c'è H24. Ok, spieghiamo bene questa situazione perché forse le persone faranno troppo confusione. No, 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 forse non ci siamo capiti. C'è l'H24. Non è un ospedale sede di pronto soccorso. È un ospedale di aria disagiata. Cioè non è una questione di lana caprina. È una questione importante. Perché essere un ospedale di base vuol dire avere i reparti, cioè vuol dire avere il reparto di medicina. Ci sono, il decreto Lorenzini stabilisce quali sono i reparti minimi che deve avere. E sono sicuramente più di uno. Cosa che l'ospedale di Penne non ha, purtroppo non ha. Ma non solo, non ha più manco i servizi che doveva avere. Io ricordo ad esempio la cardiologia che aveva anche un dei ospital terapeutico molto importante a cui facevano riferimento oltre 100 pazienti con scompenso cardiaco che venivano trattati e lì. Io non credo siano ancora in vita, nemmeno uno di loro. Le potremmo contare sulle dita di una mano probabilmente. Ma ecco, dottore, ma secondo lei che cosa ha portato a distanza di quasi un anno, perché ormai siamo entrati nel mese di giugno, a questa rottura? Perché poi di poco fa, del 21 maggio, quindi siamo quasi a un anno da quel primo incontro, c'è stata già una lettera anche un po' forte, anche un po' provocatoria da parte della vostra associazione che ha chiesto addirittura le dimissioni di Alla Veri. Quindi in un anno, anzi in meno di un anno, già c'è stata questa prima rottura. Secondo voi perché? Allora, innanzitutto apro una parentesi e mi tolgo un sassolino dalla scarpa. A noi ci hanno accusato, abbiamo avuto sempre dei trattori, come sempre accade quando si dà fastidio, a noi ci hanno accusato di essere dalla parte di Troppa dei Cinque Stelle, poi ci hanno accusato in questa occasione di essere troppo buoni con il governo regionale di centrodestra. In realtà noi non chiediamo la tessera di partito ai soci che vengono a darci una mano. Non ci occupiamo di partiti politici, certamente si fa politica perché tutto è politica, ma a noi non ci interessano i partiti politici, non abbiamo legami, nessuno di noi, non abbiamo tessere di partito, quindi è un'accusa che rigiechiamo e i fatti ci danno ragione. Perché attacchiamo questo governo? Perché abbiamo fatto quella lettera dura? Perché ricordavi proprio tu che abbiamo avuto dei precedenti incontri. Noi già da quel luglio a cui ti riferivi facevamo presente delle situazioni spiacevoli che c'erano nell'ospedale di Penne. A cominciare da medici, infermieri e os che andavano in pensione e non venivano sostituiti e quindi l'organico si assottigliava sempre di più. C'erano medici assunti con avviso pubblico esclusivamente per l'ospedale di Penne, destinati quindi ai servizi dell'ospedale di Penne, che invece non hanno preso praticamente mai servizio a Penne, ma sono stati impiegati a Pescara, procurando certamente dei danni a questi servizi e alla funzionalità di quello che rimaneva dell'ospedale. L'abbiamo detto a luglio, l'abbiamo ripetuto a settembre, l'abbiamo ripetuto ancora in un altro incontro di novembre alla dottoressa Verì, chiedendo di sistemare queste situazioni. Cosa che non è accaduta? Non hanno mosso una foglia. Ecco perché non crediamo ai proclami che hanno fatto. Perché se si tiene veramente al San Massimo, ma allora queste situazioni andavano sanate subito, invece si è consentite di andare avanti. Probabilmente c'era l'avvallo allora di questa governatura. Andiamo un pochino nel particolare perché è importante andare a vedere. Sapete tutti che il dottor Vizioli si è dimesso dall'incarico di responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale, non reparto, unità operativa semplice dipartimentale di ortopedia. La sua non è stata una decisione così presa in una notte di inizio estate, ma è scaturita dalle accuse che noi avevamo fatto e dall'incontro che lui ha avuto con il primario della ginecologia di Pescara, il dottor Rosati. Ginecologo. Ginecologo primario di ginecologia. Ora che cos'era successo? Che durante l'epoca Covid, due ecografi utilizzati in ginecologia sono stati portati a Pescara perché Pescara aveva la necessità di dividere il reparto di ginecologia in Covid e non Covid e non aveva le attrezzature. Ma questo ci poteva anche stare, nessuno aveva nulla da ridire. Il problema c'è stato quando è finita l'emergenza e è stato detto che difficilmente quegli ecografi sarebbero tornati all'ospedale di Pescara. Due. Questo l'abbiamo risottolineato, l'abbiamo riportato in quella lettera di cui si parlava che abbiamo inviato a tutta la governatura, anche all'opposizione di questo governo regionale, l'abbiamo mandato anche a tutti i sindaci dell'area vestita. E allora il dottor Vizioli è andato a chiedere un pochino ragione di questo fatto, non solo, ma anche del fatto che le due dottoresse, la dottoressa Cucchiarelli, no, chiedo scusa, la dottoressa Bascetto e la dottoressa Morgano, che dovevano essere presenti nel reparto, nel servizio pennese, invece continuavano a prestare servizio a Pescara e si sapeva già che il rapporto che sarebbe stato rinnovato di lì a poco avrebbe previsto la loro presenza esclusivamente a Pescara. Per cui il dottor Vizioli, che tanto ha fatto così bene, e tanto avrebbe voluto fare, è andato a chiedere un pochino ragione. L'incontro non sarà andato molto bene perché il dottor Vizioli è uscito dall'area, ha segnato le dimissioni, non solo, ma ha chiesto di essere mandato in pensione. Per cui da agosto lui sarà in pensione. Come capite bene, questo decreterà la fine della ginecologia di Pescara. Dove si faranno solo aborti. Chiedo scusa, mi allungo un pochino per dire che questa situazione si ripropone anche in gastroenterologia, dove c'è solo la dottoressa Spezzaferro, noi abbiamo due sale, e ne funziona una sola. Perché il secondo medico, che doveva venire in sostituzione del responsabile, praticamente non è mai venuto, se non per qualche piccola apparizione. Un'altra dottoressa, che avrebbe dovuto affiancare la dottoressa Spezzaferro, che avrebbe dovuto far funzionare anche dei servizi, per cui andiamo fieri, un esempio per tutti, la videocapsula, che però necessita della presenza di due operatori sanitari. Questo ovviamente andrà a peggiorare ancora di più la situazione, ma poi l'ortopedia, che praticamente è stata spostata tutta a Popoli, nell'epoca Covid, e rimanere... Ecco, proprio questo infatti, perché siccome abbiamo ancora poco tempo, e quindi non possiamo essere lunghi per motivi di esigenze, l'ospedale che poi è diventato Covid, ha dovuto ricorrere a determinate situazioni. Nell'incontro si è parlato anche che comunque il reparto di ortopedia, specialmente quella per il ginocchio, per la pratica delle operazioni sul ginocchio, tornerà a penne come reparto di eccellenza. Ecco, questo comunque potrebbe essere anche una notizia importante per l'ospedale, cioè comunque un reparto che non verrà eliminato dal nostro comio San Massimo. Ecco, facciamo... Vedi, non volendo, poi è un errore che si fa spesso, parliamo di reparto, quando il reparto non è, è un'unità operativa semplice e dipartimentale, che è un pochino di più dell'unità operativa semplice, in quanto dovrebbe avere, dovrebbe avere autonomia rispetto a Pescara. Reparto non è, reparto è tutta un'altra cosa. Ecco perché noi chiediamo che venga riportata a ospedale di base, perché c'è bisogno di reparti indipendenti, con un organigramma dedicato a quel reparto, che non ci siano medici, come nel caso che abbiamo descritto, che da Pescara fanno quello che gli pare rispetto a penne, non solo che considerano il nosocomio pennese come il bankomat di attrezzature, di personale e via discorrente. Ecco perché è importante avere l'autonomia gestionale. Ma non solo, questo vale anche per l'ortopedia, ma i medici che operano, il bravissimo dottor Parmieri, avrà pure intenzione di tornare a penne, ma bisogna dargliene la possibilità, bisogna metterli in condizione di operare seriamente, e io onestamente ad oggi non vedo queste condizioni. Allora, prima della chiusura con il dottor Spoltore, facciamo intervenire anche Antonio Marrone, perché l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, come ha già detto il dottor Spoltore, ha partecipato e ha organizzato tantissime manifestazioni, ne ricordiamo una o due, soprattutto quella a Pescara, ma soprattutto quella di Abbracciamo l'ospedale, dove si riunirono tante persone, sia davanti al vecchio ospedale, che intorno all'ospedale. Ecco, un'associazione che ha accorpato tante persone, però c'è bisogno del sostegno di tutta l'area Vestina. Voi chiedete il sostegno da parte di tutti i cittadini dell'area Vestina. Senz'altro, è l'unica cosa per poter risolvere la piega presa. Io, Antonio Marrone, ho lavorato 40 anni nel reparto di radiologia, e veramente la situazione di questo ospedale mi sta a cuore e vorrei che stessa a cuore a tutti i cittadini dell'area Vestina. La nostra associazione richiede necessaria e indispensabile la partecipazione del popolo vestino, lo è sempre stata, ma in questo momento lo è ancora di più. È solo un movimento epocale, con a capo tutti i sindaci, può far cambiare la piega presa. Io mi rivolgo a tutti i soci, a tutti i cittadini, facendo riferimento a quello che ha detto il nostro Presidente. Certamente lui ha esposto tutte le problematiche e io vorrei agganciarmi così marginalmente, perché di tempo non è che ne abbiamo tanto. Perché oggi la sanità non viene gestita in un modo razionale, ma viene gestita secondo chi tira più la giacca al politico. Gli ospedali periferici non vanno tagliati, vanno riorganizzati. Per riorganizzarli bisogna accorpare, tagliare qualche reparto in quegli ospedali che hanno i reparti doppioni a breve distanza e non toglierli a quegli ospedali che devono percorrere lunghe distanze per raggiungere i centri più attrezzati. Ecco, solo così si riuscirà ad avere una gestione consona alle innovazioni e al progresso medico, tecnico, infermeristico a riguardo. Perché oggi sappiamo che la medicina si è evoluta, quindi tante cose si possono risolvere a distanza in tutti quei casi che non compromettono la salute dei cittadini. Quindi non è che l'ospedale di Penne ci ha bisogno di 40 reparti come poteva essere ieri, però ci deve essere tutto ciò che serve per una gestione moderna, per avere l'ospedale di base e per togliere il rischio a tutti quei cittadini di quest'area, perché anche noi abbiamo diritto alla salute. E per questo voi continuate a chiedere l'aiuto di tutti i cittadini dell'area vestina che arrivino e perorano la causa dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne affinché comunque l'ospedale torni ad essere un luogo sicuro per tutti i cittadini dell'area vestina. In chiusura con Nicola Spoltore perché siamo veramente corti non possiamo allungarci più di tanto. Allora, siete disposti, la mettiamo così, dopo questo incontro, anche se un po' a contoni alti, a tornare a lavorare unitamente all'assessore Nicoletta Verì per orare la causa dell'ospedale di Penne anche dopo passata l'emergenza sanitaria Covid-19? Noi abbiamo sempre offerto la nostra collaborazione anche alla governatura d'Alfonso. Certamente che siamo disponibili, ovviamente vogliamo prima vedere atti concreti che vadano verso la riqualificazione del San Massimo. Anche cominciare dalle piccole cose. Fino ad ora non è avvenuto nulla di tutto ciò. Il dialogo riprende quando vedremo la reale disponibilità da parte di questo governo che tanto aveva promesso a cominciare a darci quello che ci spetta. Nessuno chiede con il cappello in mano nulla. E allora, io ringrazio il dottor Nicola Spoltore e Tonino Marrone che fanno parte dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne che hanno partecipato a questo nostro appuntamento per parlare dell'ospedale San Massimo di Penne che è un ospedale, un osocomio a cuore di tutti i cittadini dell'area Vestina ma sappiamo che è a cuore anche dei cittadini dell'intera regione perché in tanti, prima dell'emergenza Covid-19 affluivano verso il nostro ospedale per prestazioni sanitarie anche importanti. Allora, io ringrazio per il supporto tecnico Gaetano Terrio alle Camere e alla Regia e noi vi diamo appuntamento alle prossime puntate con Vestina News e potete seguire, come sempre, le nostre puntate anche sui social Facebook e Youtube. Grazie ancora per averci scelto e alle prossime puntate con Vestina News. C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. dell'attenzione La farmacia comunale Collecorvino propone tanti servizi come oltre pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio, attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci come ad esempio La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino